esatto esatto avete sentito pop it up di Endor in questa versione ma sicuramente una delle anche vi dai il ritmo giusto per questo per entrare con il passo giusto in questo film che come ho detto e lo ribadisco è il film horror più bello dell'anno io sì beh sì sicuramente un horror però io lo trovo un horror un po borderline parliamone bene perché appunto flavia capone cintura nera di horror vede praticamente tutti i film horror possibili immaginabili io meno ma davanti a questo film che io ho anche rivisto perché è passato il festival di roma e sono a rivederlo il film mi ha acceso veramente in tutti i sensi ho portato anche flavia davanti allo schermo proprio guarda devi vederlo devi vederlo e la faccia di flavia è anche la no ma a me è piaciuto a me mi è piaciuto molto però andiamo con ordine di che parla the substance intanto intanto è un film scritto e diretto da coralie fargé si è una regista e sceneggiottice francese ed è il suo primo lungometraggio mi pare di capire in lingua inglese coralie fargé fargé e anche se il suo esordio è vero il suo esordio in lungometraggio avveniva con revenge un rape and revenge femminista forse anche questo andrebbe visto sì 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 uscirò al cinema l'anno scorso se non sbaglio ma sì mi sa che l'avevo infatti già sentito la storia è quella di una attrice che ha superato i 50 anni interpretata da demi moore da una meravigliosa bellissima e probabilmente forse nella sua diciamo una delle sue prove d'attrice più più complesse no da un certo punto di vista la grandissima prova d'attrice lei praticamente a un certo punto essendo una donna che fa l'attrice superati i 50 anni il suo network vorrebbe un po accantonarla proprio perché lei l'altro si occupa di una rasmissione cioè conduce una sorta di rasmissione di aerobica come quelle di jane fonda esatto però avendo superato una certa età è considerata un po troppo vecchia e lei non non vuole arrendersi a questo e risponde all'annuncio di un misterioso siero che dovrebbe ringiovanire che è appunto la the substance ovvero la sostanza non diciamo altro perché no qualsiasi altra cosa sarebbe uno spoiler diciamo solo che tra le altre protagoniste l'altra protagonista è margaret qually che ormai tutti conoscete anche perché è stata ampiamente scoperta da hollywood e amata dal dal pubblico a partire da c'era una volta hollywood ma poi nel frattempo ha fatto molto molto altro è la protagonista di maid molto amata anche da iorgo slantimos che l'ha messa sia in povere creature che in kind of kindness quindi insomma un'attrice anche lei molto molto brava molto inquietante anche in questo film devo dire e questa è un po la storia succedono ovviamente delle cose viene categorizzato mi pare di aver capito nel filone body horror perché c'è diciamo molto molto schifo non so come definire cioè ci sono fluidi corporali corpi che si modificano anche se francamente a me questo filone qua mi fa sempre un po ridere cioè è talmente grottesco certe volte che mi mi porta fuori dall'inquietudine perché quello che secondo me è in realtà il senso centrale di questo film ed è quello che mi fa veramente paura anche in quanto donna è ovviamente il discorso sul corpo ma sul corpo delle donne e sul ruolo delle donne all'interno della società sullo sguardo maschile sulle donne perché ovviamente è un quello che vediamo nel film e quello che poi è nella realtà è un mondo diciamo dominato dal male gaze dominato dallo sguardo maschile che è quello che poi definisce i canoni della bellezza delle donne in televisione cioè il motivo per cui Demi Moore la protagonista diciamo il personaggio di Demi Moore viene allontanata dalla sua transmissione è perché il corpo perché l'uomo considera il corpo della donna dopo una certa età non più interessante da guardare in televisione e neanche tanto degno di essere o appunto il progetto di Demi Moore deve essere spostato in un'altra cosa no proprio cancellato poi c'è una riflessione ovviamente sulla vecchiaia cioè sulla sull'arrivo della vecchiaia e quindi sui cambiamenti devo dire che è interessante sicuramente allora al 3 5 1 5 2 4 1 1 0 1 mi chiedono ma è molto splatter allora se splatter intendi proprio lo splatt allora non è la violenza qua eh cioè attenzione lo splatter molto spesso è legato cioè le scene splatter ovvero quelle molto sanguinolente sono legate a della violenza in questo caso non è propriamente così cioè no no non è propriamente così non non è una violenza è più una violenza auto inflitta quasi ma più che altro è una trasformazione che crea la sensazione di diciamo horrorifica non so se a te fa più paura la violenza o fa più schifo vedere i fluidi cioè il discorso è un po quello sicuramente dobbiamo iniziare anche a parlare di come è stato come viene raccontata per immagini questa storia sicuramente tutte le persone belonefobiche cioè che hanno la paura degli aghi non possono vedere questo film perché come in generale e parliamo di tanto proprio della della vicina della vicinanza tra la camera da presa e gli attori tutte le scene sono molto vicine molto addosso alle protagoniste ai protagonisti e ha un senso proprio anche di è un po il pregio un po il difetto di questo film un po questo stare addosso ai corpi rende sia l'orrore di questo occhio veramente dentro la carne voglio vedere tutte le mosse di questa ballerina in azione questa tutte le pieghe del suo potuto mettere satisfaction che secondo me sarebbe stato forse più adatto se vi ricordate il video della canzone satisfaction è proprio quello c'è qualcosa anche lì come il video di di satisfaction è un videoclip anche lo stile registico per un certo punto è molto videocliposo e questo è anche un difetto del film per quanto mi riguarda da un certo punto di vista secondo me è un discorso che fa gioco alla cosa che lei vuole creare cioè vuole creare un effetto plasticoso un effetto finto vuole andare verso le bambole vuoi dire voi volete le bambole bene noi ci comportiamo in modo tale da diventare delle bambole però poi le bambole si rompono alle bambole si stacca la testa alle bambole se ci giochi se ci giochi si strappano i pezzi ecco e questo mi ha portato anche ovviamente a molto a riflettere con una su una somiglianza che chiunque conosca quest'altro film che so per nominare avrà sicuramente già trovato che è quella con la morte ti fa bella che è questo film del 92 che di robert zemeckis di robert zemeckis con due splendide ma incredibilmente pazzesche mary streep e goldie on che sono le protagoniste c'è anche bruce willis c'è isabella rossellini quello è un film diciamo a a parte un film iconico degli anni 90 la storia da un certo punto di vista è simile perché una donna che è un aspirante scrittrice diciamo presenta l'innesco è questo lei presenta il suo finanzato che è bruce willis a un ex compagna di classe che è un'attrice famosa un'attrice in realtà non famosa un po' scarsetta in realtà che detesta elen e che le ruba quindi il marito elen rimane diciamo piena di vendetta passano anni si distrugge fisicamente aumenta di peso si deprime non insomma diventa proprio vive nel rancore nella vendetta e a un certo punto conosce questa una diciamo una dottoressa da un certo punto di vista che poi disabella rossellini che insomma la fa venire in contatto con questa sorta di elisir che la modifica fisicamente perché somiglia a parte perché c'è l'elisir che ti modifica e quindi che però insomma non è che sia proprio l'idea più nuova dell'universo elisir di lunga giovinezza si dice da sempre ma perché a un certo punto questo elisir inizia ad avere dei degli effetti diciamo collaterali e anche un po a sua volta a decadere e quindi la parte horror sta nel fatto che sicuramente avete visto scende non è spoiler perché è un film del 92 se non avete visto veramente fate pace non è un problema ci sono teste che vanno che che si accasciano di lato sono ci sono seni che scendono diventano un po tutte delle delle bambole che si si rompono per quello c'è però la differenza con the substance non è che il la sostanza è la protagonista è l'effetto nella nella nel cervello delle protagoniste che fa cambiare le loro abitudini ma non è la sostanza l'horror no è il condizionamento dell'esterno che cambia le i corpi di demi moore tra l'altro stiamo su demi moore stiamo anche sul corpo di demi moore adesso nel 2024 anche dal punto di vista della dell'attrice questo film contiene moltissimi nudi integrali di una icona del cinema di qualche anno fa quindi abbiamo nel cervello soldato jane c'è striptease c'è la bellissima donna ex moglie di bruce willis nuovo bruce willis ma comunque demi moore nel nostro immaginario è una donna e anzi non è una donna viva in questo momento ma soprattutto ha il corpo di 20 o 30 anni 30 anni fa perché banalmente noi l'abbiamo seguita in questi progetti tra l'altro ha lavorato con ha sposato ashton kutcher che aveva si la conosciamo sicuramente non per le sue doti attoriali ma più per il suo corpo è molto chiaro che demi moore è una bellissima donna qui ho anche un appunto di flavia che è una donna dal dal fisico senza tempo tu hai usato un altro termine però è esattamente quello mentre qui la vediamo in una situazione molto possibile molto più terrena molto più quotidiana con il corpo di adesso c'è un'attrice che sicuramente ha sta interpretando un film quindi è stata anche truccata in maniera tale che la rughetta sul viso il sedere non più scolpito non è nascosto ma qui viene mostrato in quanto componente fondamentale strutturale della demi moore di adesso che è appunto presta il corpo a questa elizabeth sparkle che fa da contraltare anche all'immagine che dovrebbe avere demi moore infatti nel salotto per esempio della protagonista c'è una gigantografia di elizabeth sparkle nel suo meglio ma di adesso il quindi il l'essere dovrebbe essere torna ad essere cruciale nel in questo film come in the joker e altri film recentemente raccontati in questo in questa trasmissione insomma io credo che sia molto significativo che la la regista di questo film sia una donna perché io credo che la sua riflessione voglia essere proprio quella cioè la riflessione sullo standard della bellezza che in questo caso è molto riferita al mondo dello spettacolo ma io credo che potrebbe essere tranquillamente allargato alla società in generale e a quelli che sono un po i canoni sì anche sui maschi ma io maschi nudi qua in mezzo ne vedo pochi cioè ce ne stanno nel senso che il problema ovviamente per le donne è statisticamente 100 a 1 certo 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 non c'è non c'è paragone insomma da questo punto di vista il discorso proprio anche appunto il come vengono raccontati e vengono anche fotografati ripresi i maschi racconta anche cosa possiamo fare di più di noi di delle donne noi possiamo essere sboccati vestirci in maniera casuale il protagonista il produttore del film ho letto una recensione Dennis Quaid ho letto una recensione che metteva in luce anche questo questa questo essere facile un film facile sicuramente una favola body horror certo the substance ma il fatto che il il protagonista maschile il produttore di questo show che fa fuori demi moore ma cerca una carne fresca si chiama arvi e quindi si fa l'occhiolino a weinstein il sicuramente si vuole andare proprio nella direzione del facile voglio essere io direi del didascalico vuole essere vuole arrivare a tutti e tutte impressionare tutti e tutte muovere tutti e tutti attraverso appunto l'horror quindi pure qui l'horror diventa molto politico torniamo alla riflessione dell'horror politico che noi ormai portiamo avanti non noi il mondo porta avanti da parecchio tempo leggo da wikipedia e motivo anche per il quale Ray Liotta è nei titoli di coda Ray Liotta era stato scelto per il ruolo del produttore ma la sua morte avvenuta poco prima dell'inizio delle riprese è stato sostituito con Dennis Quaid Dennis Quaid è un'interpretazione pure lui molto 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 sopra le righe ma molto realistica da un certo punto di vista si 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 riesce alla rappresentazione delle possibilità e delle cose che la cura che mette il maschio che non mette il maschio si è confrontati con una donna per esempio parla con la bocca piena si può vestire in qualsiasi modo sboccato ovviamente guarda i sederi delle ragazze giovani è piuttosto facile come racconto e come personaggio non proprio strutturato in maniera approfondita e tridimensionale però racconta bene per contrasto tutte le accortezze tutte le le attenzioni che vengono richieste in automatico a una donna una donna di spettacolo una donna che appunto come se niente fosse con più di 50 anni è troppo troppo vecchia da buttare da sostituire trovate trovate neanche troppo non serve neanche troppa cura nel comunicare questa nuova notizia nel comunicare questa decisione di cambiamento e farla darle la possibilità di dare una una nuova possibilità è semplicemente presa e buttata come una bambola vecchia stiamo sentendo sotto la mia voce anna von haus wolf che regala o comunque suona nel momento di apice di questo film che tra l'altro è anche una struttura piuttosto particolare una struttura circolare molto intelligente questa questa struttura la regista è anche la montatrice del film e questo è anche si vede tutto anche scritto sì 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 è veramente un un grande lavoro di anche di di insieme il il film diceva una struttura circolare ma nel nella finale dobbiamo trovare una sorta di quarto atto ed è molto strano trovare una racconto che esce dalla tripartizione standard canonica dove il problema viene affrontato si crea si affronta si risolve fine fine del film qui invece c'è un quarto atto che lo ha apprezzato moltissimo proprio perché se la storia viene condotta con appunto una grande direzione con la volontà di parlare a tutti arrivare a tutti e tutte nel quarto atto nel nel finale il il l'acceleratore viene premuto al massimo e si parte verso un nuovo mondo una nuova dimensione non ve lo dico vi dico solo che c'è qualcosa no dico solo che ho trovato delle somiglianze con carri e alzo ugly and vengeful di anna von auswolf film stiamo parlando di the substance ed è un film estremamente divertente estremo al cinema questo stare molto 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 su sui corpi darà molto 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 il senso di oppressione di anche di disgusto in certi casi proprio non soltanto perché si vedono cose che fanno paura appunto gli aghi o altre cose sicuramente a un certo punto la mano davanti agli occhi oppure è un po schifino è voluto è assolutamente voluto e beh certo ed è pensato per la dimensione dello schermo quindi mi raccomando se volete vederlo cercate di vederlo al cinema anche a livello sonoro è molto curato il l'editing dell'audio il sound effects quindi perde moltissimo visto in casa sulla piattaforma anche se avete una uno schermo gigantesco in casa potrebbe non essere il momento il modo il modo giusto ma a questo punto l'abbiamo annunciata ci abbiamo anche parlato sopra ma il brano era di 16 minuti io farei sentire il finale di ugly e vengeful uno dei brani nella colonna sonora di the substance